Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi faremo se io fossi un prof incominciamo italiano allora ragazzi oggi faremo italiano aprite subito quei quaderni sfaticate matematica allora per i compiti delle vacanze mi raccomando 10 espressioni normali 10 espressioni elevate alla potenza 10 espressioni con le frazioni eeeh nooo religione storia allora il regno slovacco viene creato nel ehi stai attento allora stavo dicendo questo regno slovacco no è stato fondato dagli slovacchi ovviamente eeeh per la prossima volta dovrete studiare queste cinque pagine che abbiamo fatto scienze allora ragazzi oggi faremo scienze e studieremo gli esseri umani ma dai prof noi vogliamo fare gli esperimenti zitto niente storie eeeh ah ragazzi la scuola è incominciata da poco e già allora spero comunque che il video vi sia piaciuto lasciate tanti like e dici like e ne porterò un altro eeeh cos'è che vi volevo dire aspetta non le ho fatte tutte le materie sennò veniva un video lungo eeeh ciao raga